Giochiamo Vero o falso? Da quando hai iniziato a giocare a calcio a 7 anni Lionel Messi ha segnato più di 1000 gol Giocatore arancione, cosa ne pensi? Meno Era vero Era vero 1000 gol? Sei stato così veloce da guadagnare un po' Da 7 anni? Vero o falso? Il primo mondiale si è svolto in Uruguay Giocatore blu Era vero Che colpo di classe Più un punto bonus per la tua velocità Vero o falso? Nello sterma della Lazio è presente un falco Giocatore arancione Era falso Sa proprio tutto di calcio È molto veloce in Milano 3 gradi 3 gradi Salemi Coppulos Ha recuperato bien Vieri Intenta il gol Cristian Vieri Si entra a golazo Impressionante! Che gol di Cristian Vieri Che gol acabamos de bere nel stadio Vicente Calderon Allora domani Qui c'è il regista di Tiki Taka C'è il super quiz Domani c'è da ridere Antonio dove sei? Domani sera grandissimi ospiti Non vi dico chi c'è Che regista? A parte il regista Da vedere domani sera E non mancate domani sera Tiki Taka Con Pierre e Antonio Grandissimi ospiti Non vi posso dire Vi posso dire cosa? Sto scherzando Domani non c'è nessuno Il grande procuratore Allora auguri a voi e a tutte le vostre famiglie Ha fatto la foto con il cuore Fabio e me Veloce Coffee 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 On the street Vediamo Vediamo l'assaggio Fatti vedere bene Come è? Ottimo Buon Natale A tutte l'Italia Guarda l'anane umbilico Buon Natale Happy New Year A tutte l'Italia Ciao